Ciao, oggi sono venuta sul fiume Trebbia a cantare. È una magnifica giornata di sole, calda, e dopo una passeggiata mi sono seduta qui, su queste splendide rocce bianche, ed ora scelgo di ascoltare il cuore dell'acqua, di questo splendido fiume che scorre, e di lasciarmi incantare da questa vibrazione. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e di lasciarmi incantare da questa vibrazione. Grazie. Grazie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.